Ed eccoci qua carissimi amici dai box qua della Tretto Bondone, Renato, qua abbiamo... Ciao amici, vedete bellissima diretta, qua siamo sulla Giannini, guardate qua carissimi amici, guardate, insomma, vieni vieni caro Renato, è la diretta, è la diretta, facciamo un po' veloce Renato, guardate qua è la diretta, c'è un po' di diretta, vieni vieni Renato, guardate insomma qua è la diretta, c'è... E' un po' la diretta qua della Tretto Bondone, è la Tretto Bondone qua caro Renato insomma, ed eccoci qua la diretta insomma, le auto sono arrivate ai box, adesso sono in fase di ripristino qua per la gara di domani, ci gustiamo questa diretta insomma, caro Renato, vieni qua insomma, c'è gran movimento qua ai box, ecco guarda qua insomma dietro, questa splendida Giannini, vieni qua Renato insomma, Guardate qua carissimi amici, io ve la faccio vedere, peccato che non è in moto, però insomma è la diretta, la diretta c'è, eccolo qua, guardate qua carissimi amici, c'è una diretta, spettacolare, qua insomma il bello della diretta è questo, no? Insomma che di solito noi vediamo sempre le auto ferme parcheggiate, però insomma dai, la vediamo così insomma, eccoci qua carissimi amici, c'è la diretta di questa bellissima Giannini, ed eccoci qua carissimi amici, guardate qua la diretta c'è, Ecco insomma, bellissima bellissima diretta, ed eccoci qua carissimi amici, ecco qua insomma, caro Renato dai, tutto per voi insomma la diretta c'è, guardate qua caro Renato qua, attenzione al palo, attenzione al palo qua, qua possiamo anche concludere qua insomma, la diretta c'è, abbiamo detto una Giannini insomma poi, Trento Bondone amici, Trento Bondone, carissimi amici, dai box della Trento Bondone, il Marvin e il Renato vi salutano, avanti Renato a Tri Report